Allora, godo troppo, godo troppo, ma andiamo con ordine, Chievo Juventus, vince la Juventus 2-0 con i gol di Chedira e Higuain, tra l'altro gli unici due giocatori della Juventus che ho contro al fantacalcio in questa giornata, ma a me non me ne frega davvero una ceppa, non me ne frega una beata minchia, perché godo troppo, godo troppo. Adesso i miei commenti sono indirizzati agli anti-Juventini, gli anti-Juventini che nelle ultime ore si sono scatenati sui social media gridando al complotto, gridando al complotto per le due espulsioni che il Chievo ha ricevuto contro la Juventus. Allora, innanzitutto devo dire una cosa, il Chievo ha fatto 0 tiri in porta, il Chievo ha fatto 0 tiri in porta sia in 11, sia in 10, che in 9. 0 tiri in porta in 90 minuti. Ma questo non c'entra niente, mettiamolo in secondo piano, ecco. Allora, inizia la partita, a un certo punto Bastian si butta su Asamoah, fallo completamente ingenuo, ovviamente viene ammonito, quella è arancione quel fallo, cioè, si butta su, non serve, non serve, lui si butta su Asamoah. E vabbè, salta su, passano due minuti, passano due minuti e Bastian trattiene lo stesso Asamoah. Indirizzato verso la porta, ovvio, giallo. Prima che l'arbitro, prima che l'arbitro prendesse il cartellino giallo io avevo detto, ok, a casa, a casa, perché sei un idiota, due minuti fa ti sei fatto ammonire, adesso fai un fallo da regolamento e da giallo, quindi vai fuori, vai fuori, a casa, sotto la doccia, e non giochi la prossima partita. Chi è l'unico coglione, l'unico coglione tra i dieci rimanenti del Chievo che va a protestare? Cacciatore. Sei un idiota. Ma ti guardi attorno. Non c'è nessuno che sta protestando, neanche Bastian ha protestato, idiota. Sei un deficiente. Si è capito subito che è un anti-juventino. Perfetto, io ho detto, io ho detto, questo è un anti-juventino, ok. Finisce a pieno tempo, tranquillo, 0-0, inizia il secondo tempo, l'arbitro maresca e spelle cacciatore. Dico, oddio, rosso diretto, che è successo? Beh, oddio, il cacciatore, non so, forse ha protestato, sta rompendo i coglioni all'arbitro da quando è iniziata la partita, praticamente, quindi non so cosa avrà fatto. Le manette, le manette, ma stiamo scherzando? Poi non solo una volta, no, non una volta, una volta non era sufficiente. Non era sufficiente farlo vedere a tutta Italia, tra l'altro con le telecamere, no? Ma l'ha fatto pure di nascosto, ma stiamo scherzando? Non c'è neanche bisogno del VAR, ci sono quattro arbitri in campo, ovvio che l'hanno visto. È rosso, diretto, vai a casa, non ti meriti di continuare la stagione. Tu meriti, dopo questa partita, di aver finito la stagione, di aver concluso il tuo campionato al Chievo. Se ne riparla al prossimo anno. Perché è come se qualcuno che io non conosco, perché non credo ci sia qualche rapporto tra cacciatore e maresca, no? Non rapporto professionale, non rapporto nella vita, non credo che siano amici d'infanzia. È come se qualcuno che non conosco, viene da me, venisse da me, e mi dicesse, e mi accusasse, di molestie sessuali. Ma che cazzo vuoi? Ma cosa cazzo ho fatto? Perché poi non è successo nulla in Chievo Juventus. Che cazzo è? È come avere presenti le attricette hollywoodiane che in questi anni si stanno scatenando e stanno accusando tutti gli attori americani di molestie sessuali. Tra poco non rimane più niente. Tra poco hollywood è spazzata via, ci sono soltanto attrici. Perché accuse di molestie in continuazione. Ogni mese ce n'è una. A dicembre Kevin Spacey, settimane fa James Franco, stranamente Kevin Spacey, accusato di molestie poche settimane prima delle nomination ai Golden Globe, James Franco, pochi giorni prima delle nomination agli Oscar. Ma che strano, che strano, che tra l'altro James Franco avrebbe anche vinto l'Oscar in mia opinione. Che strano. Non ce la fate più a vedere la Juventus vincere. Ma lo capisco, non ce la fate più. Ma io godo troppo, godo troppo. Io godo troppo. Anzi, se quest'anno la Juventus vincesse lo Scudetto, e fidatevi, lo vincerà, io godrò ancora di più. Non vedo l'ora che arrivi maggio, non vedo l'ora che arrivi maggio, così potrò tornare in Italia e vedere tutti i vostri fegati spappolati per terra. Sarà una goduria immensa guardare le vostre facce, tristi, con la lacrima che scende dall'occhio destro. Sarà una cosa meravigliosa. Non vedo l'ora che arrivi maggio, veramente. Anzi, lo sapete cosa vi dico? Lo sapete cosa vi dico? Spero davvero che la Juventus vinca lo Scudetto per i prossimi 30 anni. Lo spero davvero, fino a che voi non muriate. Quando voi morite, allora la Juventus può lasciare spazio a qualche altra squadra. Lo spero davvero, lo spero davvero. Perché vi dovete vergognare, vi dovete. Vi dovete vergognare perché poi sono sempre gli stessi a parlare. Sono gli interisti, i milanisti, i romanisti, i napoletani. Ecco, poi i napoletani dopo la parata di Mertens a Crotone, no? Dopo la parata di Mertens a Crotone, hanno detto, quello non è una parata. Poi, col fallo in mani Bernardeschi, quello era calcio di rigore, lo ammetto. Complotto. Siete una vergogna, siete quello, siete quell'altro. Identico a quello di Mertens. Poi, vabbè, parlano gli interisti che hanno visto Perotti falciato in area di rigore da Scrinia. La seconda giornata, in questo momento la Roma era quarta in classifica. Capito la situazione? In questo momento, con la vittoria della Roma contro l'Inter, la Roma era quarta in classifica. Voi neanche in zona Champions. Ragionatevi, eh. Avete dato del piagnone a Inzaghi per settimane, per quello che è successo in Lazio-Torino. Questo piagna sempre, questo piagna in Laco. E poi siete voi i primi a piagnere. Siete voi i primi a piagnere, siete sempre voi. E io godo, godo troppo. Voglio vedervi soffrire fino a fine campionato. Tifferò ovviamente per la Juventus che vinca la Champions League, perché essendo una squadra italiana e io non sono anti-Juventino, come voi, fegati spappolati, tifferò Juventus, come faccio ogni anno, tifferò Roma, come faccio ogni anno, tifferò le squadre italiane in Europa League, perché il mio fegato sta a posto, il vostro invece è tutto spappolato. Non vedo l'ora che arrivi maggio, ragazzi. Ma ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente voi, gente tranquilla, diciamo, gente che non... Gente coerente, gente coerente. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa situazione, ecco. Lo so che riceverò molti insulti, non me ne frega, un accidenti secco non me ne frega, davvero. Ho detto quello che penso. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, tanto nessuno dopo questo video si iscriverà. E un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao.